Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, siamo qui a Sanremo in buona, anzi in ottima compagnia con Lorenzo Baglioni Ciao, ciao, grazie di avermi invitato, molto contento Benvenuto nella nostra casetta qui a Radio Bruno Ma è una casetta bellissima, come siete attrezzati Ma sì, ma infatti io ho paura ogni tanto di andare così perché stiamo talmente bene Appunto, l'abbiamo fatto apposta per voi per farvi rilassare, farvi sentire a casa Allora, Lorenzo, le tue emozioni appena arrivato a Sanremo? Beh, guarda, sono molto emozionato, dico sempre che è un po' come un bambino che va la prima volta al Luna Park Che vede tutte queste luci, queste cose belle, lo zucchero filato, è una roba bellissima Un carrozzone colorato e per ora divertente, poi canterò stasera, sono un po' emozionato Però faccio finta di essere molto tranquillo No, è vero, è vero, che stai arrivando, bello carico, sorridente Perché mi sto autoconvincendo di essere tranquillo E devo imparare anch'io a far così allora Allora, hai fatto veramente di tutto nella tua vita Insomma, cantante, va bene, ok, ma comico, anche teatro, cinema E anche ex professore di matematica È tutto vero, confermo Magari, ero un professore di matematica così Ho anche insegnato matematica e mi sono divertito molto Tant'è che quando ho lasciato la matematica per fare quello che voglio fare Perché l'artista è quello che voglio fare, però un po' mi dispiaceva E quindi essere riuscito poi a recuperare la didattica in questo progetto discografico che si chiama Bella Prof Per me è una cosa che mi rende molto felice Scusa, tu con una curiosità, ma con i tuoi alunni eri così frizzante Quindi già teatrale Guarda, un po' sì, perché credo molto che Insegnare è un po' comunicare, no? Quindi è come se loro fossero un po' il tuo pubblico in quel momento Quindi se tu riesci comunque in qualche modo, anche con qualche espediente Che ti insegnano quando fai teatro, a catturare la loro attenzione Sei più efficace anche per passare poi i contenuti che li devi insegnare Ora, ovviamente nei limiti del dovuto erano anche le mie prime esperienze Quindi non è che potevo proprio fare lo show e saltare in piedi sulla cattedra tipo Benigni Però Però quasi Quasi Poi ero presente e avevo la stessa età a loro quando ho insegnato Cinque, sei anni in più Quindi era bello anche perché c'era questo clima molto, un po' alla pari Che alle volte non è bene perché insomma tenerli quando ti considerano uno di loro non è banale E insomma, dalla cattedra al palco di Sanremo All'Ariston È importante, è un palco importante Beh, abbastanza importante Direi che sì, è molto importante Che porti tra l'altro un brano Spiegami un po', raccontaci il congiuntivo Congiuntivo Perché? Perché? Ma un po' per quello che ti ho detto prima È una canzone che parla proprio del congiuntivo Cioè non è una metafora Anzi si fa proprio dei tecnicismi Il pezzo parte coniugando il verbo essere al congiuntivo E Beh, perché io prima di tutti non so bene usare il congiuntivo Allora mi sono detto Lo voglio imparare una volta per tutti E visto che avevo sperimentato già con la matematica queste canzoni didattiche Ho detto, voglio provare anche col congiuntivo Stavamo lavorando a questo disco, no? Di cui ti raccontavo il disco Bella Prof Sono 12 pezzi 12 canzoni didattiche Tra cui c'è anche questa del congiuntivo Che non è nata per Sanremo Poi ci siamo detti Ma proviamo a portarla a Sanremo E io Ma ti pare che a Sanremo prenderanno una canzone sul congiuntivo? E invece? E invece stasera pare Pare? Che sia su quel palco Ancora non si sa No, in realtà si sa Però non so se è vero ancora Finché non sono lì Finché non Certo Ma sei un po' scaramantico Cioè prima di salire sul palco Che cosa farai? Allora io non sono molto scaramantico Però Visto che non si sa mai Le faccio un po' tutte No, in realtà faccio il classico rito di noi teatranti Prima di entrare in scena Diciamo tre volte Una parola che non diremo qua A Radio Bruno Facciamo anche noi comunque in radio Beh, la facciamo un po' tutti nel mondo dello spettacolo E quindi la farò con i ragazzi Che saranno poi con me sul palco Che sono i quattro coristi E quindi puoi salire sul palco E vedremo insomma cosa succederà E se Così Provo a pensare a una Eventuale serata finale Beh Se sarò Ma intanto credo ci sia per tutti Perché non c'è l'eliminazione Quindi una serata finale Certo non c'è l'eliminazione Una serata finale ci sarà Però arrivare alla finale Stai pensando un po' No, voglio pensare adesso a stasera A fare bene A fare bene stasera Poi a venerdì Ci penserò Da giovedì Penserò a venerdì Beh, io voglio Mi sono sempre detto E voglio cercare di divertirmi Qua Perché Poi quando si prova A far divertire anche gli altri Se tu Per primo non ti diverti Non funziona Quindi Ci proverò Bene Noi Ti facciamo un grande in bocca al lupo Ti chiedo un saluto Ai nostri amici di Radio Bruno Lo vuoi qua? Lo vuoi qua Amici di Radio Bruno Visto che so che Sostenete anche la Fiorentina Io vi abbraccio tutti Fisic No, fisicamente non posso Virtualmente E vi mando un saluto enorme Ciao 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 Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca